oggi rispondo a tantissime mail di amiche e amici che mi hanno scritto su messenger su whatsapp via mail e mi pongono diciamo a grandi linee la stessa domanda come alzare l'autostima ho già risposto in passato a domande simili scrivendo degli articoli tra l'altro anche molto lunghi molto completi vattene a cercare sul mio blog coaching per donne punto com ma oggi ho deciso di crearci addirittura un tutorial sull'argomento quindi faremo che sto per realizzare sto per creare un tutorial meglio stai per ascoltare un tutorial su come alzare l'autostima lo puoi ascoltare nella versione podcast oppure seguendo il video se sei sul mio canale youtube ma andiamo per gradi innanzitutto poniamoci una domanda l'autostima che cos'è questa benedetta parola autostima da sempre considero l'autostima la fonte primaria di energia motivazionale di ogni essere umano donna uomo adolescente dunque importantissima ogni amica che legge mi articoli ascoltami podcast oppure guarda i miei video ormai sa a memoria come la penso senza autostima si va poco ma poco lontano senza autostima difficilmente si riesce a dare vita ai propri sogni ancor meno a far fronte ai tanti tantissimi problemi che la vita purtroppo ahimè ci regala ogni giorno l'autostima è una sorta di fonte energetica cui attingere quando siamo depressi oppure in difficoltà quando insomma questa energia ci ci scappa siamo per dirla tutta a terra beh l'autostima ci pervade in ogni parte del corpo come se fosse una sorta di carica emozionale di carica energetica di carica ovviamente positiva permettendoci di affrontare ogni problema con coraggio con la consapevolezza di potersela fare quantomeno di potersela giocare la pari considero l'autostima una sorta di dono che ci viene dato alla nascita spesso rovinato dagli adulti anche se inconsciamente non ho mai conosciuto un papà o una mamma che volessero come dire annientare l'autostima del proprio figlio in maniera voluta però ciò accade e dobbiamo assolutamente far crescere questa autostima nel corso della nostra vita quindi dobbiamo come dire alimentarla trovare il sistema di alimentarla di farla crescere forte dentro di noi il problema è che basta poco veramente poco per annientare l'autostima di una persona di un essere umano e ancor peggio non possiamo alimentarla in automatico neppure acquistarla al supermercato purtroppo da nessuna parte ti vendono tre etti di autostima per alzare la nostra autostima dobbiamo invertire il processo di alimentazione dei nostri pensieri cambiare gli stessi e nutrire la nostra mente di pensieri positivi torno per un attimo sul mio blog o meglio a farti notare che sul mio blog coaching perdone punto com trovi tantissimi altri articoli che parlano del circolo virtuoso battigli a leggere ma voglio che tu sappia anche che la mente umana è tarata di suo per pensare negativo siamo abituati a pensare negativo per andare a cercare solo le cose brutte sporche negative quelle che paradossalmente non ci piacciono e proprio perché non ci piacciono le abbiamo sempre in mente e dunque ci focalizziamo su di loro attirandole inevitabilmente nella nostra vita e così facendo l'universo ce le fa avere ce le regala ma allora come alzare questa benedetta autostima io ho qualche idea ce l'ho eccoti per esempio tre passi da compiere comincia con l'acquisire nuove abitudini comportamentali abitudini ovviamente positive potenzianti che possano aiutarti a migliorare e le abitudini si formano con la ripetizione costante continuata degli atti delle azioni e gli atti come ho già detto sono azioni che devi compiere tu amica mia o tu amico mio se sei mai scritto come me l'ascolto nessun altro può fare quelle azioni al tuo posto a proposito di azioni se hai problemi nell'agire ti consiglio dell'ascolto anche del mio audiocorso il cervello in azione ma torniamo ai tre passi da compiere munisciti di un diario su cui notare i tre consigli che sto per darti e dove riporterai anche tutte le azioni quotidiane che tu farai ogni giorno guarda che sull'importanza di un diario ho scritto tante tante cose in rete vattela a cercare vale vai sul mio blog ma troverei anche tantissimi altri articoli anche su riviste importanti perché il diario è uno strumento straordinario che tutti i terapeuti italiani consigliano ed eccoti in ordine i tre passi da compiere passo numero uno comincia a prendere consapevolezza delle tue paure passo numero 2 adesso sfida i tuoi pensieri passo numero 3 alimenta tutti i giorni positivamente la tua mente per l'esperienza so bene che non è facile ma se tu cominci a mettere in pratica i tre passi che ti ho appena accettato e te li leggo nuovamente comincia a prendere consapevolezza delle tue paure devi devi essere consapevole del fatto che tu queste paure le hai quindi non le puoi nascondere tanto per essere chiaro adesso devi sfidare i tuoi pensieri perché i pensieri sono lì gli devi dire i tuoi pensieri adesso ti batto e devi fare in modo che naturalmente i tuoi pensieri possano essere battuti da altri pensieri migliori positivi potenzianti in che modo puoi farlo alimentando tutti i giorni positivamente la tua mente ricordati che non puoi cancellare nessun pensiero negativo dentro di te lo puoi solo unicamente sostituire con un pensiero potenziante positivo migliore di quell'altro forza allora comincia ogni giorno a mettere in pratica questi tre passi ricorda che nessuno può farli al tuo posto purtroppo non si trovano già pronti neanche questi al supermercato dunque devi armarti di pazienza e di costanza e ovviamente agire compiere quelle azioni mettere in pratica i consigli che ti ho appena dato ma incontri altri consigli pratici sul come alzare la tua autostima per esempio l'elenco delle cose belle creare il famoso elenco delle cose belle questo è un altro consiglio molto pratico che ti aiuterà a cambiare il tuo modo di pensare di conseguenza ad aumentare l'autostima dentro di te come fare beh comincia a creare il tuo elenco delle cose belle comincia a fare queste cose in sequenza intanto acquista un comune diario scrivici sopra almeno dieci cose belle che hai intorno a te se te ne vengono di più ovviamente aggiungi le cose che ti fanno piacere cose che ti rendono felici che possono essere semplici e banali ma ti fanno star bene insomma ti piacciono adesso rileggi ogni giorno il tuo famoso elenco adesso che lo hai scritto di tuo pugno mi raccomando scrivilo sempre a mano scrivi sempre a mano queste cose sul tuo diario non usare mai un computer adesso che lo hai scritto dicevo prendi l'abitudine di leggerlo e rileggerlo più volte al giorno 10 20 30 non so tutte le volte che ti serve meglio tutte le volte che puoi più volte leggi il tuo elenco più volte queste cose belle si fissano nel tuo inconscio e ti aiutano a combattere i pensieri negativi per esempio potresti leggerlo oltre la mattina quando ti alzi ovviamente la sera prima di andare a letto perché durante la notte il tuo cervello lavorerà per te gratuitamente ogni volta che ti viene un pensiero negativo o pensi a qualcosa di brutto di negativo tu prendi il tuo elenco quindi te lo porti dietro e cominci a leggerlo ripetutamente finché quel pensiero negativo come dire non se ne va e o comunque lo sostituisci con dei pensieri positivi che attingi dal tuo famoso elenco rileggi dunque l'elenco ogni sera prima di addormentarti e ogni mattina prima di alzarti perché la sera se prendi l'abitudine di leggerti l'elenco prima di addormentarti lascerà in memoria un pensiero positivo una cosa bella tratta proprio da quel famoso elenco durante la fase di sono rem il tuo cervello lavorerà per te gratis e rafforzerà nel tuo inconscio l'ultima cosa che hai lasciato in memoria appunto il pensiero positivo la cosa bella voglio farti notare che il processo funziona benissimo anche nell'altro modo quando ti addormenti con un dubbio un problema un timore un pensiero negativo una cosa brutta durante la notte anche questa cosa viene rafforzata dentro di te la mattina quando ti alzi trovi il problema più forte di prima ad aspettarti e lì più forte di prima come puoi notare stiamo cercando di nutrire l'inconscio stai cercando di nutrire il tuo inconscio ma perché nutrire l'inconscio di un essere umano di una persona devi sapere che uno dei segreti per invertire i nostri pensieri passare dei pensieri negativi a quelli positivi è proprio quello di aiutare il nostro inconscio di nutrirlo continuamente di cose belle piacevoli per noi per te per me devi nutrire l'inconscio di pensieri positivi potenzianti posso darti un piccolo suggerimento al volo smetti di guardare la televisione soprattutto smetti di guardare i telegiornali parlano solo di cose brutte di cose che non vanno bene di cose negative e questo riempie costantemente continuamente il tuo inconscio proprio di cose negative quelle cose che tu dovresti evitare ma torniamo al nostro inconscio la ripetizione agisce proprio sul tuo inconscio obbligandolo a focalizzarsi sulla cosa bella che ti ripeti infatti la tua mente non è assolutamente in grado di focalizzarsi contemporaneamente su due cose diverse o si focalizza sul pensiero positivo o si focalizza su quello negativo non è in grado di fare contemporaneamente le due cose e la ripetizione continua dell'elenco delle cose belle consiglio sempre per almeno 40 45 giorni ti impedisce di pensare le cose brutte sporche cattive che la vita ci regala obbligando la mente inconscia a spostare il suo focus dalle cose brutte e negative ai pensieri positivi all'elenco delle cose belle infine ripeti l'elenco anche la mattina appena ti sei alzata in modo da ti subito una bella carica una sorta di carica motivazionale energetica e cominciare bene alla grande la tua giornata questo passaggio è molto importante perché agisce su quell'energia motivazionale di cui ti ho parlato all'inizio del podcast di questo video quell'energia chiamata appunto autostima in chiusura di questo lungo podcast o video dipende se stai ascoltando oppure guardando il video su youtube voglio anche darti quattro consigli di lettura eccoti tre titoli di libri da leggere per aiutare la tua autostima a crescere e diventare forte titolo numero uno lezioni di autostima di raffaele morelli titolo numero due i sei pilastri dell'autostima di nathaniel branden titolo numero tre autostima fai da te di jerry grassi ricorda che un altro modo per nutrire la tua mente inconscia è proprio quello di leggere ma leggere libri importanti positivi potenzianti libri che ti possano aprire la mente che te la possono nutrire di cose positive appunto leggi con fiducia questi tre libri sono libri straordinari sono libri che ho letto personalmente e sono libri che ti consiglio di leggere e se poi hai anche voglia di leggere qualcosa di mio è anche come dire vuoi osare in una mia lettura ti consiglio uno dei miei libri che è autostima donna 6x un vero e proprio trattato di coaching femminile lo trovi anche in versione audio sul giardino dei libri oppure in versione ebook e libro cartaceo su amazon il giardino dei libri mondo del ristoro insomma sono tutti gli stori più importanti siamo in chiusura di questo lungo tutorial podcast o video che sia su come alzare l'autostima spero di averti dato qualche consiglio utile qualche consiglio pratico qualche consiglio che ti possa permettere di cominciare a lavorare sulla tua autostima in maniera particolare sulla tua parte inconscia che ti aiuterà a sua volta a superare i tanti tantissimi problemi che purtroppo ahimè la vita ci regala non fa miracoli ma lavorare con costanza e ripetizione sul tuo inconscio ti aiuterà ci tengo sempre a ricordare che consigli che offrono le persone nei miei video nei miei podcast nei miei libri nei miei articoli sono consigli di vita vissuta sono consigli che io per primo ho provato e testato su di me e poiché non sono particolarmente intelligente neppure bravo e hanno funzionato con me sono assolutamente certo che se tu li applichi con costanza appunto e ripetizione e perseveranza aiuteranno anche te io sono Giancarlo Forney un coach il mental coach delle donne così chiamato conosciuto perché lavoro con l'universo femminile da oltre 15 anni vienimi a trovare su coachingperdonne.com il mio blog principale oppure anche su facebook Giancarlo Forney naturalmente e se hai una domanda anche tu scrivimi info chiocciola giancarlo forney.com ti risponderò prima personalmente e poi se la domanda è come dire l'interesse generale potrebbe aiutare moltissime altre persone ci costruirò sopra un podcast o un video come questo un grande grandissimo abbraccio e mi raccomando alza la tua autostima seguendo i consigli che ci sono dato